ciao a tutti amici e ben ritornati in questo nuovo video io sono salvi e oggi ci sono i nomi su bruv stars continua la serie e oggi come avete letto dal titolo c'è l'avete letto faremo questa cosa saremo al massimo dei biglietti e poi apriremo queste cinque casse che mi sono indietro con le raddoppiagge toniche vabbè adesso sono finiti allora gli ultimi però vorrei vedere niente fatto con il donate di seguiti dei scarsi vabbè io la uso l'ho sempre usata mi trovo bene e diciamo senza perdere perché faccio così no e comunque avete visto se ne fate mille trofei ma io sempre ho messo brock e ho anche trovato peeper e stecca cioè proprio il giorno della giornata ok l'ho fatto me sbaglio il mega brawler qua ma perché c'è bock ma che s***** buon prank se me ha posto io e se me ha posto veramente secondo me questi killer adesso mi faccio vedere dove fa vuoi fare il mio mondo di seguiti consigliate il mio canale questa non ci voleva che devo resistere almeno due minuti devo resistere quella che mi sa che ci voleva come non si vorrei se adottare almeno due minuti se camattando su? non mi viene non mi viene non mi viene è non mi viene ma forse mi ce la faccio forse ce l'ho fatta il ne fiche 9 casse e 3 gmw nooo scusate ci rivediamo quando ho fatto quanti non cambiedeva io a far vedere la mia caion e ma ho ucciso jesse ma perchè c'era io non mi vado a multiplicare la caion vabbè credo che è per un mio errore questo scusate era successo un piccolo errore un piccolo problemino un problemino dell'interno no 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 live in minecraft per le bad words è già valuta un video di forza perchè non l'ho più fatta per un paio di progetti non l'ho fatta qui vabbè ho tante monetocze non vado con il gerbo vabbè spero che vi sia piaciuto eccoci lasciate un click iscrivetevi e vabbè che vi vediamo e ciao a tutti